Divertente ma che l'ho capito dopo due semestri, quando avrei dovuto capire in un giorno Per esempio, noi abbiamo un insieme, R² Noi sappiamo che R², quindi in pratica il nostro piano cartesiano, perché R qua e R di là Questo qua è uno spazio vettoriale Perché? Perché 1 in primis è un gruppo commutativo Oppure un gruppo abeliano Perché infatti esiste l'elemento neutro che è lo 0 Aspetta che vedo, ok ecco Esiste l'elemento neutro che è lo 0 È unico e gode della proprietà commutativa Se io faccio un vettore qua o un vettore qua e li sommo, ottengo sempre lui E indifferente se faccio lui più lui, ottengo sempre, corico del paleogramma, il vettore diagonale E poi, anche se si ricorda le altre proprietà, va bene Ora possiamo andare a considerare un sotto insieme E per esempio, quella seconda Ok, qua seconda è contenuto in R², ovviamente I numeri razionali sono contenuti in R anche se noi facciamo il nostro asse con Q Cioè, se qua c'è R, poi posso metterci Q, non c'è problemi Cosa significa quella seconda? In pratica sono due assi in cui invece che metterci tutti i numeri reali Tu togli quelli che non sono razionali Per esempio, radice di 2, radice di 3, radice di 7 Tutti i numeri così Per esempio, anche E O per esempio, π E alla π E quindi è un asse, sono due assi foratti Ci chiede E' un sottospazio di R²? E io dico, la domanda è incompleta Perché è Sottospazio Di R²? La domanda è incompleta perché bisogna specificare che tipo di sottospazio Ossia, noi dobbiamo dimostrare che Vedete per esempio due vettori V, W Appartenenti A quale seconda? Possono essere per esempio V uguale AB E W, per esempio, uguale CD Ovviamente con A B C D Devo essere razionale Se no, se ci metto qua D C Questa è una D Se ci metto qua D C2 E questo qua non è più un vettore Nei razionali Perché c'è qualcosa di non razionale Come radice di 2 E Ok Cosa voglio dimostrare? Che V CW Appartiene ancora a Q² Ma cos'è questa cosa qua? È A più C Ho già sbagliato A più C Ponte mi ricordo la seconda coordinata B più D Ma poiché A più C Sono nei reali Sono nei razionali La somma è razionale Idem con B più D Sono razionali E quindi la somma è razionale E quindi Questo qua è un vettore formato da due Entrate Due coordinate Razionali E quindi Appartiene a Q² L'altra condizione Quindi è un ok È che Dato un lambda Per un vettore di Q Per In Q² Questo appartenga Ancora A Q² Ma per esempio Se io prendo un v generico Questa roba qua Lambda V È uguale a Lambda volte A Ponte virgola Lambda volte P Nulla di strano Adesso Manca una condizione Vete che ho sempre messo Questi qua sono razionali Questi qua sono L'inqua seconda Questi qua Verdiene Q Lambda Cos'è? Perché se per esempio Lambda Appartiene Ai numeri reali Questo è un problema Perché Per esempio Se Lambda Ugo a radice di 2 Questa cosa qua Esce Radice di 2A Per Radice di 2B Che non appartiene A quella seconda Perché come input Ha dei numeri irrazionali E quindi Non appartiene A quella seconda Ma se invece Lambda Appartiene Ai numeri irrazionali Allora Lambda A Ponte virgola Lambda B Appartiene Sì Sì A quella seconda Perché Eh sì Ma io sono dal tonico Ok Perché È formato Da un vettore Che come coordinate Soltanto Nome irrazionali E quindi E quindi La domanda Era incompleta Sì Perché Se noi Ci chiediamo È un R Sottospazio Ossia I coefficienti Li va a venire in R La risposta è no Se noi Ci chiediamo È un Q Sottospazio Di area seconda Allora sì Perché Senti insieme Ed è chiuso Rispetto a somma Per prodotto E niente Lo so che è Così lineare E molto chiaro Però Io non ce l'ho arrivato